Ti capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in Via Emilia 2. Assessore Zaretti, buongiorno. Sta per concretizzarsi un progetto di cui si parla da mesi, ovvero la diffusione di un'applicazione per i telefoni cellulari e per i tablet che permette ai cittadini di comunicare con l'amministrazione. Qual è l'obiettivo di questa applicazione? L'obiettivo è creare sinergia e interattività tra i cittadini e l'amministrazione e poter rispondere in tempi rapidi a quelle che sono le necessità dovute a criticità. E non soltanto perché questa interattività comporterà anche la possibilità da parte dell'amministrazione di segnalare eventuali emergenze tramite notifiche push ai cittadini che naturalmente dovranno scaricare l'app. Ma ormai tutti abbiamo un cellulare, scaricare l'app e averla quindi sul proprio telefono. Sarà possibile anche essere, come si può dire, attivati con notifiche push per quanto riguarda la raccolta rifiuti, la differenziata. Domani, notifica push, domani passano a raccogliere l'umido nella tua strada. È quindi un'applicazione che richiede anche un adeguamento e una lavorazione importante per appunto renderla aderente a quelle che sono le necessità del nostro comune. Le segnalazioni arriveranno e verranno direzionate e veicolate direttamente all'ufficio competente. Per cui la segnalazione per il verde arriverà all'ufficio verde, la segnalazione al red urbano, la red urbano, viabilità all'ufficio, viabilità. Quindi saranno proprio incanalate verso quegli uffici. Sarà possibile anche conoscere naturalmente eventi, luoghi di interesse e notizie storiche o notizie anche proprio amministrative della nostra città. Quindi è un'applicazione che potrà essere multifunzionale non soltanto per essere tutti attivi, non solo l'amministrazione ma anche i cittadini potranno partecipare attivamente ma anche permetterà di conoscere la nostra città perché nel momento in cui un'applicazione di questo tipo a 360 gradi potrà essere scaricabile diciamo che anche qualsiasi, noi guardiamo anche un'ottica di turismo consapevole che possa magari essere avvicinato e attratto dalla nostra città magari anche grazie a questa applicazione. Infatti i turisti scaricando l'applicazione potranno poi trovare magari punti di riferimento più interessanti, più importanti del nostro centro, no? Certo ed essendo un'applicazione molto duttile ed implementabile potremo poi in fasi successive verificare le esigenze e verificare cosa altro in più potremo aggiungere in questa applicazione per aiutare il nostro territorio e la nostra città. Come sto già pensando magari a delle mappe che siano comunque non soltanto culturali con i luoghi d'arte ma magari mappe complete con anche i luoghi dell'enogastronomia o quante altre informazioni che possono comunque valorizzare non soltanto appunto l'arte ma insieme al commercio e magari perché no anche gli aspetti naturalistici del nostro territorio. Una tempistica quando sarà disponibile? Dobbiamo fare un corso di formazione per tutti i funzionari comunali che saranno delegati per i settori di loro competenza a seguire, aggiornare oppure comunque raccogliere le informazioni e le segnalazioni per cui è necessario un'impostazione seria e rigorosa perché deve essere un'applicazione che deve assolutamente funzionare e per farla funzionare bisogna che le persone siano preparate. Per cui adesso seguiranno già a partire da oggi dei momenti di formazione per il personale e dopodiché verrà impostata e strutturata quindi io credo che in un mese riusciremo sicuramente a renderla disponibile tramite questa applicazione sarà anche possibile effettuare segnalazioni e proposte e idee che potranno essere anche inviate verso la nostra amministrazione e naturalmente noi ne terremo conto nel momento in cui naturalmente siano valide. Grazie. Grazie a voi, buona continuazione, buona visione.